Il Covid ha sfiorato anche la nazionale azzurra. El Sharawi, risultato positivo, è stato al centro di un falso allarme. Stasera a Bergamo, città che ha pagato un pesante tributo al contagio, si giocherà Italia-Olanda. Gli azzurri possono andare in fuga nel girone, battendo la squadra di De Frai e Atebur. Mancini ha annunciato il rientro di Chiellini in difesa e di Immobile in attacco. Ha detto però che ci saranno altri cambi. Noi ipotizziamo Locatelli a centrocampo, o verrà confermato il doppio play Giorginio Verratti. Chiesa sarà sicuramente della partita, forse Terzini, D'Ambrosio e Spinazzola. Ma la paura maggiore è per i contagi. Anche Ronaldo è finito in quarantena e il derby milanese potrebbe essere condizionato dal virus. A dimostrazione che il Covid non fa il tifo per nessuno.